ok raga eccoci qui seguitemi come vedete fate i bravi non fate i scemi io sono il vostro Enrico Pasquale Praticogo 2T e le accendo solo ho 29 anni sono di Mostra San Juane per un individuo di Reggio Calabria sono qua scurao il tempo è brutto e da voi mettete mi piace e volete iscrivetevi al canale attraverso la campanella bella a tutti i ragazzi ho il telefono pronto andiamo a vedere qualcosa o parliamo le chiamate che mi chiamate voi io rispondo e registro il video e altre cose in questo video e tutti i giorni bel contenuti e niente mi dissocio scusatemi e perdonatemi John Zira Yoyo Menenzini io sono qua baci sono il dio di youtube il re di youtube comando io sono il numero 1 sono una leggenda sono uno youtuber e sono famoso baci John Zira Yoyo Menenzini e vabbè avete visto in me scarpe con la lampadina bianca e ci sono anche altri colori e oggi pomeriggio mi è arrivato il pacco e l'ho aperto prima faccio questo video lo mostro qua il pacco e ci sono i paloncini la intra con quelli la potete gonfiare mettete l'aria in bocca e cambiate la voce che ho visto tanti video e altre persone che cambiano la voce con i paloncini mettete l'aria in bocca e fate la voce strana e non l'ho fatta mai io la devo fare ora il mostro in questo video l'opacco che mi è arrivato di Amazon e i paloncini e dopo faccio le storie su youtube e le mostro anche lì ok andiamo nella mia stanza mettiamo pausa saluto paolo silvia claudio gloria silvia meri e geneva quell'altro mercolio gelius del nord alla collo x e assunta e niente sono qua e andiamo a testa non si deve tagliare se deve fare sano il video e vabbè andiamo metto pausa raga aspettate prendo il pacco l'ho aperto già quando mi è arrivato il postino di reggio l'ho preso e l'ho aperto non aspettai vabbè ormai questo qua l'ho aperto un mostro qua e dopo faccio le storie dai raga fate i bravi non fate i scemi state con la bocca zitti mamma mia ma vabbè vabbè basta andiamo a mostrare quelle cose la sex ok eccolo qua l'ho aperto già c'è questi qua i palloncini le mostro anche sulle storie dopo ci sono due bigliettini c'è uno che c'è scritto ora lo leggiamo dei miei fan e questo è un poco strano vabbè ora facciamo così ora mettiamo i palloncini ca intra e quest'altro foglio che non lo leggo che solo questo qua devo leggere raga solo questo e c'è scritto un messaggio da auguri da gabriele radi e dopo c'è sono il tuo fan numero uno ti lago mi puoi salutare insieme agli altri nomi in tutti i tuoi migliorosi video mi chiamo lello con l'accento sulla o da gabriele radi ciao lello e gabriele radi un saluto e un abbraccio a lello e gabriele radi ciao belli grazie dei palloncini e dopo faccio le storie grazie a lello e a gabriele radi ciao belli i miei fan e raga qua sotto trovate anche il link di amazon andate tutti e scegliete ci sono i dvd i gd e cose che ho messo sotto sopra e scegliete uno di quelli la così giochiamo insieme e passiamo un tempo e ho messo in nuove cose ho messo le patatine le bibite sotto sopra scegliete quello che volete me le mandate qua sotto trovate il link di amazon toccate la freccia toccate il link lo aprite e scegliete quello che c'è sulla mia posta del link di amazon andate tutti dai fate i bravi non parlo e voi non andate bravi andate tutti dai che qua sotto il link di amazon lo metto tutti i parti dei video ok fate i bravi voglio bene i miei fans io sono il loro idolo gionzina gli ammenzini andiamo oh raga domano di nuovo da fadda si scemi di persone non possono domare da fadda domano e scappano belli miei uomini perché noi vergognate che non potete domare dei faddi o vicini casi perché bruciate o l'estate o inverno queste qua queste persone raga devono andare in carcere così imparano non bruciare a fadda e vicino i casi domano fuoco e scappano si scemi ma vabbè sono io con le lampadine le mie scappa avete visto vabbè arrivo andiamo con il cellulare ok vediamo qua che dice il giocatore fonde proposta incredibile a ronaldo per giocare contro messi ci resette e risponde così quattro ore fa su internet ho letto raga a settembre comincia la serie tv sull'app quella che avete su cellulare so parlare sono italiano calabrese e dialetto a settembre guardate voi la casa di papel la casa di carta a settembre c'è la parte 5 io me la vedo voi mettete la sveglia e la vediamo insieme ok ricordatevi e andiamo avanti rupubblica da ronaldo e debola allegri cerca un nuovo centro di gravidà va bene tre ore fa qua dopo c'è scritto cristiano ronaldo a lille la successione arriva dal compagno di squadra tre ore fa va bene sto leggendo novità non è che porto le stesse cose voi siete scemi e non sentite niente fine del mondo nel 2021 la nuova provrezia dei maia l'apocolisse del 2012 aspettate che mi mandano la mi stanno chiamando rispondiamo andiamo aspettate pronto 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 mi senti si dimmi ciao 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 bello non può grande farlo tutto a posto si siete anche io tutto a posto grazie bello grazie grazie cazzo ma ha chiamato ho parlato gentile non è che voi siete scemi non dico parolacce bestemmie sono un bravo ragazzo un bravo uomo e so fare tante cose venite a zappare la vigna con mia così avete guai così non andate a casa così e venite a zappare la vigna io do il mio la il basso del si va bene mi dissocio youtube voglio dire io do i zapponi e zappano con mia un giardino e cacciano a erba e altre cose piantano dopo a casa faccio io un giardino solo devono venire a aiutare a me a zappare la vigna e altri lavori ok volete venire bene e non volete venire andate al loro paese e beh johnzina io io menzini mi piace condividete seguitemi iscrivetevi al canale attivate la campanella bello a tutti ragazzi e niente raga qua sotto trovate il link di amazon andate tutti e niente grazie a quelle quelle due i miei fan lello e cabriere radi ciao grazie dei palloncini dopo e faccio l'aria e faccio cambio la voce e vabbè e basta dai andiamo avanti e guardare novetà e rispondo le chiamate raga un'altra chiamata mi è arrivato vediamo chi è non è la stessa persona pronto pronto come stai tutto a posto tu bene come va anche io bene sono qua mi passa il tempo e tu grazie prego e fa caldo assai e da te quanti gradi ci sono da te ok 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 però fa caldo e anche io fa caldo qua e prima l'avevo e ora non ce l'ho più la devo comprare o me la regalano non so quando quando ti fai comprare e l'ho fatto la non lo faccio ora e a quando il 22 aprile 2022 e lo faccio quando viene il 2022 e aprile lo faccio il 22 aprile io lo faccio il 29 aprile bravo ok ok raga non so questo dice bugie non è vero osse lasciamo e vediamo eh si sto facendo il video eh dimmi il nome Matteo ciao Matteo puoi salutare mia padella si chiama Gian Paolo ciao Gian Paolo ok grazie prego ciao bello ah domani rispondi si ti rispondo domani a che ora e la il pomeriggio lo apri il cellulare ok ok quindi poi domani ti richiamo ok ciao ciao sono bravi queste ragazze davvero mi regala la play vabbè basta così ciao raga io finia di fare questo video ho cominciato bene pulito carmo bravo sono un bravo uomo e un bravo youtube io sono famoso in tutti i parti volevo andare in discoteca o su programma le iene o su strisci alla notizia o canale 5 dove barbara d'usso vabbè la sono andate un po' di altri youtuber volevo andare io c'era un bordello del coronavirus cominciavo e non potevo andare volevo fare i raduni e in giro con altre persone e altri youtube e facciamo le foto la firma un video saluto vi avete visto era la mia famiglia che usciva fuori e vabbè questo video lo pubblico lo stesso seguitemi quando vedete iscrivetevi al canale chiamate il campanello bello a tutti i ragazzi sono il dio di youtube il re di youtube il numero uno comando io sono una leggenda sono famoso e sono uno youtuber l'ho detto comando io basta così raga il mustro tutto completo avete visto vabbè sono il telefono raga io chiudo seguitemi e alla prossima ciao belli